Terza ordinanza di custodia cautelare per Carmine Testiera, l'ufficiale giudiziario di Ascea già accusato di corruzione in atti giudiziari, concussione e falsità ideologica per quanto compiuto nel corso del proprio lavoro presso il Tribunale di Vallo della Lucania. La nuova misura cautelare nasce a seguito di ulteriori irregolarità rinvenute negli atti acquisiti nell'ufficio di Testiera, sequestrato lo scorso dicembre e nel corso delle indagini di questi mesi. Due le contestazioni sollevate con questa terza ordinanza per induzione in debita a dare o promettere utilità e falsità. Nello specifico a Testiera viene ora contestato di aver indotto delle persone a consegnargli delle somme di denaro per assolvere a pratiche del suo ufficio appignoramenti, ingannando anche gli utenti in merito alla finalità e alla natura di queste procedure. L'ordinanza è stata notificata a Testiera in carceri a Salerno, dove è rinchiuso dallo scorso 7 febbraio. Stamane era previsto anche l'interrogatorio di garanzia a Fuorni in merito a questi ultimi eventi, ma Testiera, dinanzi al GIP Stefano Berni Canani, si è avvalso ancora una volta della facoltà di non rispondere, come deciso in accordo con i suoi legali, gli avvocati Mario Variante del Foro di Salerno e Francesco Annunziata del Foro di Napoli Nord. E questo in vista del ricorso al riesame, che potrebbe esserci già tra una settimana. Giochiamo così a carte scoperte, ha detto l'avvocato Variante, potremo avere contezza delle varie accuse, dei vari episodi contestati al nostro assistito, che nella sede del riesame risponderà ad ognuno di essi, fornendo la sua lettura dei fatti. Il ricorso al riesame sarà l'occasione per chiedere la scarcerazione di Testiera o in subordine la revoca degli arresti in carcere in favore dei domiciliari. L'ufficiale giudiziario di 66 anni, finito nella bufera dallo scorso dicembre, è stato dapprima indagato per aver favorito l'accesso ad un'impresa in un fondo privato al centro di un pignoramento senza l'autorizzazione del giudice e poi è stato arrestato, dopo essere stato colto in flagranti, a chiedere una mazzetta ad un imprenditore di battipaia per il pignoramento di un'auto. A tutto ciò si sono aggiunte successivamente le accuse di corruzione e falsità ideologica per alcuni atti compiuti nel corso di un pignoramento immobiliare. Al vaglio degli inquirenti ci sono numerosi incartamenti da quando, lo scorso dicembre, i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania fecero irruzione nell'ufficio dell'ufficiale giudiziario apponendovi sigilli e acquisendone il materiale. Non si escludono dunque ulteriori sviluppi.